Ai microfoni di Parvapolis e con Mary Drigo, siamo ancora una volta qui al Festival Pontino del Cortometraggio. Che sensazione dopo tanti anni? Allora, ci piacerebbe faticare di meno, perché se vorremmo tanto avere tanta gente intorno a noi da poter compensare come merita, per dividere il grande lavoro che c'è. Perché i corti sono molto belli, gli ospiti vorrebbero venire in tanti, però ogni ospite è un problema. Stazione, aeroporti, questo per dire la cosa più recente. Se no per il resto devo dire che i cortometraggi sono veramente belli. A parer nostro il tema che noi cerchiamo di portare avanti, cioè l'attenzione al sociale. Cioè una cultura che proprio rifiuta la starlet, ma cerca proprio il sociale, cerca la donna e cerca il migrante. Tutti i temi che a parer nostro, dal cuore, dall'emozione, fanno scaturire pensieri. Ecco, e noi vorremmo tanto che le emozioni aiutassero a pensieri positivi. Per lo meno in un momento in cui di emozioni ce ne sono tante negative, qualche emozione positiva ci sembra importante che nasca.